Ciao a tutti, io sono un grandissimo amico di Andrea Alvespista e lui mi ha aiutato a fare questo motore qua, del Sì, una lavorazione del 65, 13 di carburatore io ho montato la marmitta già nell'Efire, ho tagliato l'albero motore sempre su disposizioni del capo, diciamo, di Andrea vi consiglio spassionatamente iscriversi sul canale suo, Andrea Alvespista che è veramente una persona molto molto competitiva, veramente, molto brava ti spiega anche qualsiasi cosa che io avevo dei dubbi e lui mi ha aiutato tantissimo ora facciamo l'accensione, ovviamente è freddo, vediamo un po', eh? tiriamo un po' l'aria, adesso vediamo se parte, ma ne sono sicura al 100%, Andrea mezza pedalata è freddo, ovviamente è freddo lo proviamo, dai ben, tipo, è un po' l'aria Grazie a tutti. Allora, iscrivetevi sul canale di Andrea Alvespista che è una grandissima persona. Ciao a tutti.